Il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, ha intervenuto ai nostri microfoni sulla questione dell'ospedale civile di Agropoli, che è stato escluso dal piano triennale delle opere pubbliche dell'ASL Salerno. Secondo Coppola, il nosocomio agropolese è stato escluso perché non ha bisogno di particolari manutenzioni, essendo una struttura nuova. È stato fatto un piano triennale che, sapete, è sempre un meccanismo condabile in continua evoluzione, non è determinato. Si sono stati messi dei soldi, delle previsioni economiche, ancora non finanziate, perché il piano triennale è un progetto di quello che si può fare nel triennio successivo, non è finanziamento di niente. E si è cominciato naturalmente a investire sulle strutture più vecchie, che hanno necessità di maggiore manutenzione, quindi di interventi. Evidentemente è risaputo che la struttura di Agropoli è una struttura nuova, che non ha bisogno di particolari manutenzioni, quindi se si fa riferimento a interventi di manutenzione straordinari, è normale che l'ospedale di Agropoli non c'è in queste manutenzioni, come ci può essere certamente a Eboli, che è una struttura naturalmente, come sapete, vecchia, e come altre situazioni che non riguardano certo il nostro nosocomio. Diversamente da quello che si dice, si va dicendo, soprattutto per volgare strumenti di relazioni politiche, al fine elettorale, io non mi devo candidare alle regionali, ci sono persone che si devono candidare alle elezioni regionali e quindi utilizzano lo strumento dell'ospedale per fare campagna elettorale e queste persone farebbero bene a utilizzare l'onestà intellettuale, cioè anche quando si fa la campagna elettorale bisognerebbe dire le cose corrette e non strumentalizzare ogni cosa che viene a uscire, diciamo, sullo scenario attualmente politico. Quindi questo mi dispiace e naturalmente mortifica le intelligenze di ognuno. Fermo restando che mi riservo di incontrare la stampa nei prossimi giorni, come ho già detto, e raccontare quello che sta succedendo nel nostro nosocomio, e perché io credo che faremo in tempo a banderare gli impegni che abbiamo presi, cioè quello di avere un pronto soccorso medico H24 e di avere le sale operatorie, di quello che abbiamo detto noi credo che manterremo gli impegni. Oggi posso dire manterremo gli impegni perché mi sento incoraggiato da quello che ho visto e da quello che sta succedendo. Tutte le chiacchiere saranno al vento perché se questo che io sto dicendo si realizzerà, allora a quel punto potremo dire che è così. Altrimenti se questo non si realizzerà, allora voglio dire che abbiamo sbagliato noi, hanno ragione, chi oggi parla, secondo me, inutilmente senza avere dati di fatto in mano.